Una vecchia amicizia, almeno così ci è stata riferita, si era un pochino diradata nel corso dell'ultimo anno. Un dato più interessante è legato al fatto che questo giovanotto aveva comprato due armi poco prima, si è trovato in casa. E con quella pistola, una .357 Magnum, Danny Scott avrebbe sparato 11 proiettili alla testa, alle gambe e alle parti intime di Giuseppe Marchesano, da cui sarebbe stato letteralmente ossessionato. Sono alcuni dei risultati dell'autopsia riguardo l'omicidio di Castel del Bosco, frazione di Montopoli-Valdarno, del 9 novembre 2018. Quali colpi avete sentito? Diversi, ma non di seguito, prima due, poi dopo un po' altri due, poi non sentite dell'altro. Quanti erano non lo so. A distanza di quanto? Qualche minuto. Prima il giovane originario di Chiesina Ozzanese avrebbe mirato alla testa della vittima, poi all'altezza dei genitali, infine alle gambe. Sparò dilaneando il corpo della vittima, provocando quello che il medico legale ha chiamato sfacelo, traumatico del cranio. I proiettili avrebbero comunque raggiunto Marchesano nelle parti intime solo dopo l'avvenuto decesso, per via dei colpi alla testa che sarebbero stati sette. Si sospette anche che Scotto abbia denudato la vittima prima di sparare ai genitali e che possa aver preso a calci l'ex amico.